Oh, levami subito tutta sta latta da dosso che così di scatolato mi pare un barattolo di bombi d'oro. Ma Cesare! Ma l'Italia? Ma Galva, è il colpo di Stato! Ci ho ripensato. In Italia il corpo di Stato è impossibile. Ma ancora è impossibile? Cioè, per corpo sarebbe facilissimo. È la questione che manca lo Stato, capito? Perciò non c'erava niente. Io direbbe, bobbene sono andato a casa, poi casomai vi convocasse il magistrato. Ognuno dica a me, e quando vai? Ma io, vedi, ma che me? Ma poi si dice, calme. Perché quando, se poi insistesse, è stato tutto un movimento del servizio segreto. Quale servizio segreto? Ma uno qualunque, basta capire il corrente l'epono, mettete il dito sopra. Dice, è stato qua, lì, capito? Perciò è meglio che smammate, perché io non gliela faccio proprio più. Accompaglia i signori. Abre! Ciao. Hai girato la chiave? Sì. Mette pure il catenaccio. E mo' sono brutti tempi. Ah, bobbati, c'è che è butella. Le maiale. Eh, ma erano buone, buone.